L'autonomia differenziata torna in primo piano su Sky Tg24, la consulta, illegittime alcune disposizioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. In una nota si spiega che spetta al Parlamento colmare i vuoti segnalati, va tutelato il principio di sussidiarietà, non modificare le aliquote e i tributi erariali, i LEP non vanno determinati con un DPCM ed è incostituzionale la facoltatività in concorso a spese dello Stato. Sull'ANSA la cronaca ci porta in Emilia Romagna, violenza di gruppo su una sedicenne incastrati dal DNA, un diciassettenne e un diciottenne individuati dopo un appuntamento sui social. Sulla DNA Kronos la Siria, raid di Israele su Damasco, 20 morti, spari contro una pattuglia dell'Unifil in Libano, illesi tutti i caschi blu, nuovi raid israeliani in Libano, Mosca che dice Russia al lavoro per una de-escalation, Human Rights Watch accusa Tel Aviv di crimini di guerra. Le azioni dell'esercito rientrano nella definizione di pulizia etnica e poi su Tgcom24, ancora notizie dal mondo, multa UE da 798 milioni per il marketplace di Facebook, secondo la commissione Meta ha abusato della sua posizione dominante per imporre condizioni commerciali inique, il Colosso ha annunciato il ricorso. Questi gli ultimi aggiornamenti Antonio.